La felice sinergia che ha messo in atto dal Comune, dalla Polizia di Stato e dall'Associazione Italiana Città della Ceramica si traduce in un'occasione educativa per la quale dobbiamo andare orgogliosi. Il problema è appunto quello che forza la violenza. La violenza non è soltanto quella di genere, ma dobbiamo pensare e stare attenti a tutti i tipi di violenza. 5 punti, come le dita delle mani di cartoncino e che i bambini proprio ora stanno ritagliando, impreziosendole con la propria parte. Grazie.